Ciao, in questo video faremo la seconda parte della caccia al tesoro Ginnastica, gym, caccia al tesoro gym Ok, vai, lascio il telefonino alla Eli, così vi segue e vi spiega Allora, vi ricordate l'altra volta che eravamo rimasti al terzo step, al terzo indizio? Rileggetelo così lo ricordiamo un po' a tutti quanti, come diceva Dalle scimmie proveniamo, lancio è lungo e poi atterriamo Ok, quindi secondo voi che cosa riguarda? Il trampolone parallela, ci dobbiamo aggrappare a quella sopra Sì, brava, esatto, tutte quante, cioè grappiamo sopra, facciamo un'oscillazione e scendiamo in piedi con le braccia alte Allora, vediamo la Eva Grazie 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 Brava Grazie Greta Greta Quindi cosa diceva l'indizio? Dalle scimmie proveniamo, lancio è lungo e poi atterriamo Ok Ok Quindi dobbiamo andare in giro a cercare Tieni pure Tieni pure Dalle scimmie proveniamo, quindi cosa fanno le scimmiette? Sì Ma non so se No, no No, no, no Quindi, quindi, quindi Dai che ci siete vicine Che è che c'è vicino? C'era vicino alla Franci, mi sa C'era vicino alla Franci, mi sa C'era vicino alla Franci, mi sa Dov'è, 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 dov'è Brava Vieni giù, vieni giù Vieni giù Vieni giù piccolina Ok, aprilo Sì, sì, vai Claudi, vai Claudi Se l'indizio vuoi trovare il pavimento non puoi toccare Non dobbiamo toccare il pavimento Ok, il pavimento Quindi dove dovremmo andare secondo voi? Somma, terassi Ma dov'è l'area del pavimento, dov'è? Quella Quella, ok, quindi dobbiamo andare a cercare un indizio in quella zona Ma non possiamo toccare il pavimento Stop, stop Ma ci sta Non potete toccare Ma dubito No, quello è sbagliato, è un altro ancora Acqua Acqua E va Acqua ho detto Allora, state sulla pedana, prendetegli step Dovete muovervi con lo step No, vedete con lo step in mano, noi vi diciamo fuocchino, fuoco Esatto Prendete con lo step e lo step in mano, noi vi diciamo fuoco Esatto Prendete con lo step e lo step in mano Ah, tocco tu Ok Vediamo dove andare Acqua, fuoco 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 Potete metterli giù i vostri step Ah, ok Ok Ecco Claudia, prendi quello della Eva Mettilo avanti a te Bravissima E così via tutte quante dietro, passateveli Fuoco Fuochino Quasi fuoco Fuoco Tutte quante dovete arrivarci, eh Tieni un pochino più lontano Fran ci aiuta Ma sai già dove stai andando? Hai già idea di dove potrebbe essere? Eh beh, se è fuoco 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 Duomato 钱 Mi sa che..eh, si, mi sa che servo un altro step L'altro Un cielo Brava La Claudia Attenzione, questo indizio... cammina Piano Verso l'indizio penso che abbiate del dato Non avete ancora capito chi è? L'uomo, le persone Piano Piano E sai poverina È stanca lei Brava piccolina Dovete trovare l'indizio No, non l'ha mangiato, tranquilla Vai No, Franci, è impossibile che sia lì perché prima era di là Guardate si guinzate Brava La pittorina Eh Brava Greta Trovato? Vai, leggi Se il tesoro vuoi trovare dietro la Le torri Dietro? Dietro le torri blu Devi cercare Quindi? L'indizio Prima c'è il bigliettino, l'avete già trovato? Praticamente No, no, io no Fermi Vai Dopo tutta questa confusione Siamo giunti alla conclusione Ed ecco qui il vostro tesoro No E' uno a testa, eh Cercate, cercate Sono in giro Eccoli Fate vedere cos'è Venite, venite Sono delle matite Dentro una Scasolina Ma soprattutto firmate Centro e sforbolane 2016 Brave Bello, eh? Sì Mi è piaciuto questo gioco? Sì Ciao 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 Ciao